benvenuti a motore salute europa oggi parliamo dei trial clinici abbiamo intervistato per voi un esperto il dottor davide parison dell'istituto besta che ci spiega come importante il ruolo di noi pazienti paziente in qualche modo anche al centro del trial clinico perché è quello che comunque deve beneficiare maggiormente di tutto ciò e quindi sono molto importante anche la percezione dell'impatto della terapia da parte del paziente quindi c'è tutto un filone di ricerca su qual è la misura di evoluzione della malattia che parte dal paziente dalla percezione del paziente della malattia come istituto neurologico carlo besta partecipate anche a bandi europei quanto importante il ruolo dell'european reference network o dei bandi horizon 2020 o di borse banicuri il fatto di avere diciamo il concetto di rete fondamentale per le malattie rare perché l'unione fa la forza particolarmente per queste malattie che sono estremamente rare sul territorio e quindi gli europei non reference network hanno il senso di unire tutti gli sforzi dei centri di eccellenza per la cura e anche in parte per la ricerca su queste malattie e horizon 2020 è il modo in cui la comunità europea mette a disposizione un numero consistente di fondi per la ricerca anche di queste malattie fondamentale perché senza fondi la ricerca non si può portare avanti e ce n'è molto bisogno ci sono anche i bandi ersi che riportano in italia dei ricercatori e il besta partecipa quanto è importante l'interdisciplinarità due concetti il primo è che purtroppo molti ricercatori vanno all'estero perché è difficile portare avanti la ricerca in italia proprio per ragioni di fondi non perché non ci siano centri di eccellenza o strumenti ma proprio per la problemi strutturali e di fondi quindi è importante trattenere in italia giovani ricercatori con questi metodi con tutti i modi e l'interdisciplinarità anche importante ad esempio molte di queste malattie hanno una trasversalità di espressione che richiede la collaborazione del ricercatore di base del clinico in diversi rami di patologie